Quest'anno sono molto felice di ritornare con le mie commediole o atti unici. L'argomento uno è la purga degli equivoci. E fa sbuggere da ridere, però l'importante è che faccia ridere ragazzi, perché non abbiamo bisogno di ridere, perché è un pesco, quindi io sono pronta. E' tutta me stessa per far ridere. E poi c'è l'altro, le casalette hanno sentito, anche perché c'è da ridere. E c'è l'altro, la genzia matrimoniale, hanno trovato noi, hanno trovato marito, ai pensi a me. Il 20 agosto saremo carichi come la dinamite, esplodiamo. Tenetevi pronti, vi aspettiamo molti, l'arena deve essere piena, perché non vediamo l'ora di vedere il nostro pubblico, che sorride e si diverte. Grazie.